Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Caffè Musicale Per sostenere il canale YouTube iscriviti e clicca la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video Se alla fine ti sarà piaciuto il video, clicca like Se non ti sarà piaciuto scrivi nei commenti cosa non ti è piaciuto Ma passiamo subito all'argomento di oggi Nel video precedente abbiamo introdotto le tecniche di sintesi Definendo cos'è una tecnica di sintesi ed elencando alcuni tipi di tecniche di sintesi Che andremo ad affrontare di mano in mano nei prossimi video Quindi se non hai visto il video precedente ti consiglio di guardare Caffè Musicale 12 e poi proseguire Andiamo avanti oggi con la sintesi sottrattiva La sintesi sottrattiva è un processo che ha come componente di partenza Un segnale particolarmente ricco di armonici I quali attraverso l'utilizzo di dispositivi che ne filtrano lo spettro Finalizzano il segnale Filtri e WCF di cui abbiamo parlato in questo Caffè Musicale Come si può intuire dal nome Questa tecnica è il procedimento inverso rispetto alla sintesi additiva Questa tecnica è molto semplice E non comporta un costo elevato in termini di risorse di calcolo e di riproduzione vera e propria Molti strumenti acustici sintetizzano il proprio timbro attraverso un processo molto simile A quello della sintesi sottrattiva Ad esempio il martelletto di un pianoforte che colpisce la corda O il battente che percuote la pelle di un tamburo In questi casi il suono viene modificato dal corpo dello strumento che Oltre a filtrarne lo spettro si comporta come un risuonatore Cioè un sistema che enfatizza alcune frequenze rispetto ad altre Nel mondo dei sintetizzatori la sintesi sottrattiva nasce con il primo sinta analogico della storia Prodotto in larga scala Il Mini Moog di Robert Moog La catena di sintesi del Mini Moog era composta da 5 sorgenti 3 oscillatori, un noise generator e una sorgente esterna Gli oscillatori possono generare diverse forme d'onda Dalle forme d'onda generate con l'aggiunta di un rumore bianco o rosa Componenti che contengono tutte le frequenze dello spettro udibile È possibile produrre un segnale abbastanza complesso Da sottoporre ad un successivo filtraggio Per produrre quindi un sintetizzatore che sfrutti la sintesi sottrattiva Sono necessari tre elementi Oscillatori, noise, filtri Questo vale per tutti i tipi di sintetizzatori Analogici, digitali e virtuali Una sintesi più articolata si potrebbe avere nei sintetizzatori In cui è prevista la possibilità di gestire dinamicamente le componenti Che partecipano alla sintesi di filtraggio Molti strumenti offrono questa possibilità Attraverso matrici di modulazioni Ad esempio nell'access virus C Per oggi è tutto, grazie per la visione Se ti è piaciuto il video metti like Se non ti è piaciuto scrivi nei commenti cosa non ti è piaciuto Iscriviti al canale YouTube Clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video Seguimi su Facebook e Instagram Stefano Vaccari, Caffè Musicale Grazie, ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao